Pazio a voi, cari amici. Ascoltiamo Gesù, la sua parola di vita, di salvezza, di libertà. La prendo dal capitolo 7 di Luca, dai versetti 31-35. Dal Vangelo secondo Luca. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così. Vi abbiamo suonato il flauto, non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Di chi sta parlando il Signore? Chi è questa generazione? Poco prima, il versetto prima, leggiamo che tutto il popolo e i pubblicani si fanno battezzare dal Battista, Ma i farisei, dottori della legge, non facendosi battezzare da Lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. È un'espressione molto forte, molto dura. Farisei, dottori della legge, non hanno accolto la volontà di Dio. Non si sono sottomessi al Signore. Perché? Perché sono giusti, sono autosufficienti, loro sono a posto. E allora Gesù li paragona ai bambini che, usando questa immagine, sono capricciosi, non stanno al gioco. Avete presente quando i bambini fanno i capricci? Chi di voi ha questa esperienza sa che ti portano al limite in modo... Sono molto esperti in questo. Proprio che non sanno neanche loro quello che vogliono. Tu propone una cosa, ne vogliono l'altra. Ne fai l'altra, vogliono la cosa di prima. Viene Giovanni il Battista e dicono che è troppo duro, che è indemoniato. Gesù, invece, che non è più duro come Battista, va a mangiare con i peccatori e viene accusato di dissolutezza. Ma questo cos'è? È un giustificarsi. Né uno, né l'altro vanno bene. Perché? Perché mai nessuno andrà bene per chi non vuole camminare, per chi non vuole entrare in un cammino di conversione autentica, profonda. Bambini capricciosi, che non sanno cogliere il momento, che non sanno fare discernimento, non sanno neanche loro quello che vogliono. E allora rimangono fermi nella loro volontà, nel loro volere. Ecco una parola questa per noi forte, che diventa un invito a smascherare i tanti motivi, che a volte ce la raccontiamo. Eh, ma non vado in chiesa perché c'è quel prete, non faccio questa cosa perché quelli là... Sì, va bene. Però raccontarsela è un giustificarsi, un trovare giustificazioni per non lasciarsi mettere in discussione. Che bello che invece è dire, Signore, io accoglio la tua parola perché so che c'è tanto in me da convertire. Ho bisogno della tua misericordia, del tuo aiuto, della tua presenza. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore.